Notartel è una società del notariato italiano fondata nel 1997 che in questi anni ha curato l'informatizzazione del notariato e dei suoi notarili per aderire a quello che è l'indirizzo della pubblica amministrazione digitale. In questi anni Notartel ha realizzato tutta una serie di servizi significativi per il rapporto dei notari con la pubblica amministrazione come la firma digitale, la posta elettronica certificata. In questo percorso di individuazione delle migliori soluzioni informatiche siamo approdati alla progettazione di una soluzione per la stipula degli atti informatici con l'obiettivo di realizzare una sostanziale semplificazione nella stipula di un atto in particolare per quanto riguarda la partecipazione delle parti che sottoscrivano l'atto. Rispetto a questi due capisaldi, la semplicità e la sicurezza giuridica, abbiamo avviato un percorso che ci ha portato a incontrare le competenze di Aruba che ha risposto pienamente a che commissione con i suoi contributi alla realizzazione del progetto sia per quanto riguarda, ripeto, la semplicità e quindi l'adozione di strumenti digitali tipo le tavolette per la posizione della firma grafometrica, sia ancora di più per quanto riguarda le soluzioni di sicurezza informatica. Credo che in questo Aruba abbia sicuramente sfruttato le proprie competenze maturate nel tempo per quanto riguarda soluzioni di firma digitale e anche soluzioni di firma grafometrica. È stato un percorso che ci ha visti affiancati nell'individuare la migliore soluzione e riteniamo che Instrumentum sia il risultato significativo di questa collaborazione.